la serie ciao a tutti ragazzi oggi andremo a fare un altro video su minecraft seconda serie allora secondo video nella serie allora avevo scoperto vi volevo oggi ora l'ho scoperto in proprio ora allora ho scoperto un una parte dove è pieno di case guardate che bello però c'è una cosa minecraft non faceva quei tipi di case cioè non non faceva quelle faceva tutto il legno ma non sempre pietra ragazzi andiamo a controllare che mi sembra molto strano non ho mai visto ste case nuovo aggiornamento hanno già messo ste cose e prendiamo del legno perché voglio salire perché non intendo trovare le scale e trovare l'entrata no voglio mettere voglio entrare di forza e non non ho mangiare quindi mangio questo qui dai una cavolata e la cavolata ha detto una cavolata allora e wow avete visto che anche armi arma che cosa ha questo ma muori ehi mi devi dare muore ragazzi si sta vicina si sta vicina non è che prendo a lui che schifo ce l'aveva già usato allora comunque non posso salire come non posso salire ma dai ma dimmelo che non mi puoi far salire allora non c'è nessun villager comunque ho scoperto un'altra un'altra un altro paese un paesino allora metto questo ok visto che oppure questo dai lo metto per essere più non voglio usare il mio allora ora controllerò nella cesta che non c'è perché pensavo che c'era che ogni volta c'era wow ciao pecora e ma boh pensavo che c'era una cesta devo controllare bene in queste case perché se ci sono cesta ragazzi io devo prenderle e boh non lo so intanto e invito a iscrivervi e lasciate like vi raccomando chi è sto qua capito che e poi questo ah e cavolate ho trovato carta e una bustola che ce ne devo che devo fare con questa cosa e vabbè poi andiamo in quest'altra casa non tocchiamo il coso la grosso allora ah un'altra oh mio dio oh mi ho cambiato tutto comunque scambio le cose si può scambiare si sai e prendo due smeraldi e prendo un pane e dai prendo pure delle patate perché non è tu che sai se sto morendo di fame sto proprio morendo con un attacco di fame che si può morire pure allora grazie del del tuo mangiare se ti posso dare il del tu e ciao allora poi vediamo mi spiace rubare le cose a questi però mi fanno pena buono allora ciao ancora e cavolate queste sono cavolate te le rubano a te non ti interessa niente vabbè stai zitto se non ti denuncio e ciao villager e villager ti denuncio se devi star zitto te l'ho detto già prima ok ciao e poi doppia porta guarda che tirchio guarda tu guarda ma ma te le doppia porta gliele rubavo se era un altro no io gliele lascio perché c'era un sacco di porte non ho bisogno delle sue sporche porte allora poi qua niente perché sono povero tutti poveri però dai buono 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 guarda sopra si può salire sì sì sono salito quindi vabbè dai ciao ma sai ma neanche erano poverissimi però cioè ma boh li svegliamo che dici sveglia e allora che nano e tu non potresti vivere da solo comunque vabbè muori ciao ma poverino mi dispiace però niente era povero come diceva era piccolo senza soldi e ah ci ho svegliato scusa va bene comunque in poche parole il video era questo che avevo trovato un villaggino dai e però c'è un problema casa mia dov'è no scherzo è là allora e saliamo andiamo a casa va bene io ho postato tutto infatti qua c'è tutte le cose che avevo nella 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 nell'inventario guardate a che livello sono 6 perché io ho ucciso persone ho preso carbone questo poi ragazzi scrivete nei commenti molto importanti scrivete nei commenti nell'altro video sotto a questo video tu quale volete basta che sia minecraft di oggi e scrivete se vi piace questa serie o non vi piace poi ovviamente lasciate like se vi piace fatemelo sapere dai like pure vabbè dai anzi vabbè vabbè ragazzi spero che il video vi sia piaciuto perché volevo farvi volevo fare un altro video dove ovviamente era più breve però 5 minuti dai era più breve però questo qua è il video che avevo scoperto questa quello là però sai che non pensavo di scoprirlo che c'era già sono entrato in questo mondo e manco e manco me sono accorto che c'era vabbè qua c'è sempre i miei due lama ciao piccolini miei vabbè ragazzi spero che il video vi sia piaciuto noi ci vediamo al prossimo video non so quando ciao